Oh Giamba, c'è il cuore di Yuri che stanno vengendo pa' il dirac Sì ora ho iniziato il secondo tempo 6 a 1 figli Yuri è loud 6 a 1 3 gol di Yuri, 1 di Alessio mi pare e poi l'ora mi ricoglio India Voit, una boom All'altra c'è il campo, però una boom India canto valore c'è secondo me, sembra spettacolare Kevin è come lo solito, passia se mi metto il campo E' il torno ne si Bu Giovanni, bravo Brava, brava, sensore mia, brava Poi appena finisce qua vi chiamo, mi faccio lasciare da lì si va solo a l'una da qualche parte dove siete voi Ma vabbè dove nemmeno uno? Ciao 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.